La situazione sacral è insostenibile, Oliverio intervenga prontamente, questo è quanto affermato dal consigliere regionale Mario Magno. Avevo denunciato qualche mese fa la situazione di malcontento e di prevaricazione esistente in Sacral Spa a causa di una gestione verticistica della società. Devo constatare, continua Magno, che le mie esterne azioni hanno trovato piena rispondenza nei fatti. Secondo l'Onorevole, le difficoltà nella società sono dovute all'incompatibilità e l'irregolarità nel conferimento delle piene delega al presidente Arturo De Felice, rispetto al quale i soci privati hanno presentato ricorso. Altri elementi che il consigliere Magno chiede al governatore Oliverio di vagliare sono poi la carente programmazione di servizi nel contesto aeroportuale, il difficile decollo delle attività degli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria, l'abbandono dell'aeroporto di La Mezzia Terme e anche la mancanza di chiarezza nell'ambito delle attività svolte dalla tutta stessa. È arrivato il momento, dopo oltre quattro mesi di attività del nuovo CDA di Sacal, di fare il punto della situazione. Con la nomina da parte del presidente dell'Aggiunta regionale, Mario Oliverio, del prefetto Arturo De Felice, si era pensato che iniziasse una nuova stagione per Sacal. Trasparenza e legalità erano condizioni prioritarie. Ancora oggi, tuttavia, sono in attesa di definizione e di ulteriori indagini. Da subito, invece, è iniziato un forte contrasto tra soci pubblici e privati. Questi ultimi avevano investito nell'acquisto di quote rilevanti. Il pericolo, ha sottolineato il consigliere Magno, è che la mancanza di specifici piani industriali per i due aeroporti e di uno complessivo per i tre rischia di produrre un ulteriore indebitamento di Sacal Spa.